Stazione unica appaltante, i comuni sotto i 5.000 abitanti hanno l'obbligo di centralizzare gli acquisti in un unico ente. La provincia di Padova, oggi siamo a Padova per questo incontro, si propone come stazione unica appaltante. Oggi incontriamo i sindaci per vedere come sbrigare questa matassa. Logicamente le problematiche non saranno indifferenti, i comuni di dimensioni minori si lamentano moltissimo, perdono decisamente autonomia. Sembrerebbe che con questo sistema ci fossero dei risparmi ed è come al solito tutto da verificare.